Ha negato un 45enne in via Detini ad Eboli all'interno della fattoria agroenergetica del consorzio di bonifica in destra del fiume Sele, struttura recintata, videosorvegliata e chiusa con il cancello, a perdere la vita nella vasca della turbina idroelettrica Atik Rahal, 45enne marocchino. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, del comandante Mario Dura, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal capo squadra Gabriele Covillo, il nucleo sommorzatore di Napoli per le operazioni di recupero del corpo e i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Luca Geminale. I carabinieri hanno allertato il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Salerno, che ha disposto l'esame esterno sulla salma al cura del medico legale. Sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni o ferite, pertanto il decesso sarebbe avvenuto per annegamento.